Sequestrato il pane della Befana, panini e focacce al carbone vegetale finiscono nel Mirino della Guardia Forestale, nell'impasto cera colorante tossico, denunciati 12 panificatori. Emergenza abitativa, a Bari la prima agenzia per la casa. Il comune interviene con un piano straordinario, in 5 anni più di 650 nuovi alloggi. E caccia all'offerta, sono iniziati i saldi, i negozi presi d'assalto per lo shopping di fine stagione, servizio di bus navetta per il giorno della Befana. 100 candeline per nonna Graziella, la nostra intervista alla nonnina più longeva di Ceglie del Campo. Ben trovati in diretta dalla redazione di Telebari, in primo piano la cronaca pane tossico al carbone vegetale, sequestrati in Puglia, panini e focacce impastati con colorante non a norma. L'operazione della Guardia Forestale dello Stato. Il nostro servizio. Pane nero al carbone vegetale, prodotto utilizzando coloranti proibiti dalla legge. La scoperta degli uomini della Guardia Forestale che hanno sequestrato un ingente quantitativo di focacce, panini e bruschette in alcuni panifici pugliesi, anche a Bari. 12 panificatori denunciati producevano e vendevano prodotti alimentari al carbone vegetale trattati con un'aggiunta di additivi chimici per variarne la composizione. In pratica alle ricette classiche del pane e della focaccia veniva aggiunto insieme ai normali ingredienti, acqua, farina, sale, burro e latte, anche il colorante e 153 carbone vegetale, una sostanza non autorizzata dalla legge. I prodotti sequestrati, la cui produzione aveva raggiunto il picco per l'epifania, sarebbero finiti sulle tavole dei pugliesi con possibili rischi per la salute. Sono state concluse da poco queste attività di polizia giudiziaria che vanno nella direzione di difendere il consumatore da frodi, perché di frodi stiamo parlando a leggi e normative italiane comunitarie. Quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute di questo colorante e 153? Certo è che è vietata dalla norma e per questo è sufficiente per procedere al sequestro e consentire di indagare 12 persone così come è stato fatto. E sul sequestro di pane nero interviene la Coldiretti Puglia. È necessario fare chiarezza sull'utilizzo diffuso di un colorante in apparente contrasto con la normativa che prevede espressamente che per il pane e prodotti simili l'uso di coloranti è vietato. Il consiglio della Coldiretti è quello di scegliere fra le centinaia di pani tradizionali naturali presenti su tutto il territorio. Circa 100.000 decorazioni luminose natalizie non in regola e prive del sigillo europeo sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Bari durante controlli, numerosi esercizi commerciali, sequestrati anche 3.000 prodotti tra articoli di cartoleria ed accessori di abbigliamento contraffatti, 5 cittadini cinesi denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode. Ancora cronaca litiga con la moglie e le punta contro un fucile da caccia carico. È accaduto a Trigiano dove i carabinieri hanno arrestato un 42enne pregiudicato. Sentiamo. Una lite violenta, poi la minaccia di morte e l'arma puntata in direzione della testa. Tragedia sfiorata in un appartamento a Trigiano dove un 42enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di detenzione di arma clandestina e minaccia aggravata. Al termine dell'ennesima lite con la moglie il 42enne estrae il fucile da caccia che deteneva irregolarmente e minaccia di aprire il fuoco. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini di casa che hanno chiesto aiuto ai carabinieri immediato l'intervento dei militari. L'aggressore tenta la fuga ma viene bloccato dai carabinieri nelle vie del centro del paese. In una busta nascondeva la carabina con la quale aveva minacciato la donna. Si tratta di un fucile di fabbricazione belga con matricola brasa e una trentina di cartucce. sull'arma sono in corso accertamenti balistici. Aggredisce con calci e pugni un suo coetaneo riducendolo in fin di vita. È accaduto a Rutigliano dove è stato arrestato dai carabinieri Gianvito Tortelli, 23 anni, con l'accusa di lesioni personali gravissime. L'episodio risale al 24 novembre scorso. Durante l'aggressione il 26enne riportò lesioni gravissime e fu sottoposto ad intervento chirurgico. Voltiamo pagina. Sono tante le novità che riguardano la politica dell'abitare a Bari. Rientrano tutte nel piano dell'Agenzia della Casa, istituita dalla Giunta Comunale il 30 dicembre scorso. Questa mattina la conferenza stampa a Palazzo di Città per illustrare i dettagli. Da 652 nel 2007 a 3.000 nel 2014. È impressionante il numero degli inquilini debaresi sottoposti a sfratto per morosità incolpevole. Significa che non ce l'hanno fatta a sostenere il costo dell'affitto e sono state costrette a lasciare la propria casa. Per far fronte all'emergenza l'amministrazione comunale ha istituito la prima agenzia per la casa in Puglia e nel sud Italia. Più di 650 nuovi alloggi da realizzare nei prossimi 5 anni. Un finanziamento di 4 milioni di euro erogato dalla Regione Puglia per il contributo alloggetivo e altri 500 mila euro destinati al fondo per morosità. Questi alcuni dei provvedimenti varati dal Comune di Bari è presentati oggi in una conferenza stampa dal sindaco di Bari Antonio De Caro e dall'assessore al patrimonio Vincenzo Brandi. Partiamo dal presupposto che all'interno delle graduatorie del Comune ci sono 1.932 aventi diritto, 633 nuclei familiari però nei prossimi 5 anni vedranno una risposta positiva alla necessità di avere una casa. L'obiettivo, spiega Brandi, è creare un incontro tra domanda e offerta di alloggi a canone concordato. Attualmente sono circa 18 mila le case sfitte soltanto nella città di Bari, situazione causata dall'eccessiva prudenza dei proprietari di casa ad intavolare una trattativa con gli affittuari. L'agenzia metterà a disposizione un fondo di garanzia e tutela del pagamento del canone di locazione ed una polizza assicurativa per il ristoro delle spese legali e dei danni creati all'interno dell'abitazione. Tutuiremo dei fondi di garanzia per inquilini ma anche per i proprietari. Sopra il luogo dell'assessore ai lavori pubblici del comune Giuseppe Galasso sul cantiere del waterfront di Fesca San Girolamo. Da dopodomani saranno effettuati nuovi interventi sul fronte della segnaletica stradale nel tratto compreso tra via Tomasicchio e via Ninorota con l'istituzione di nuovi sensi unici di marcia. La nuova disciplina di circolazione influirà anche sul percorso dei mezzi Amtab con alcune variazioni. Iniziano oggi i saldi invernali di fine stagione e secondo il Codacons quasi una famiglia su due approfitterà degli sconti ma con acquisti mirati. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. 30, 40 e 50% sono iniziati ufficialmente i saldi di fine stagione, occasioni a prezzo ribassato per risparmiare qualcosa sugli acquisti e se la gente risponde positivamente alla vendita promozionale occorre tenere gli occhi ben aperti. A tal proposito il Codacons ha diffuso un decalogo di cautele per non pentirsi dell'acquisto. Innanzitutto conservare sempre lo scontrino, il cambio è consentito entro due mesi se la merce presenta vizi occulti. In tal caso laddove non sia possibile la sostituzione con un prodotto equipollente, il commerciante ha la facoltà di proporre l'alternativa del buono, stando attenti alla durata e alla validità dello stesso. In caso contrario il cliente può chiedere la restituzione dei soldi. A spiegarlo è l'avvocato Dario D'Urso del Codacons. La restituzione dei soldi da parte del venditore non è prevista dalla legge, la restituzione viene chiesta davanti a un giudice, quindi con tutti i costi e lungaggini accessorie legate alla giustizia. Diverso il caso di merce esente da vizi, in tal caso il commerciante può ben decidere che per la merce in saldo non si accettano cambi. Occhio poi all'entità dello sconto, un 70% a inizio saldo deve destare qualche sospetto. Si deve trattare di rimanenze di magazzino, la merce in promozione deve essere realmente di fine stagione. Bisogna controllare benissimo il cartellino, controllare non solo la percentuale di sconto che potrebbe essere anche fittizia, irreale, controllare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Infine gli scaffali, il negoziante ha il dovere di tenere la merce non in saldo ben distinta da quella in promozione. Del resto è la stessa regolamentazione della vendita che oggi fa discutere. È arrivato il momento per il legislatore di mettere mano alla legge vigente e dire sarebbe il caso di liberalizzare le vendite promozionali tutto l'anno e quindi rendere evidente, rendere legale quello che in realtà già nei fatti succede. Enormi lastre di ghiaccio lanciano i saldi del Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, una nuova attività di guerriglia marketing che ha stupito tutti e coinvolto migliaia di passanti. Oltre 50 lastre di ghiaccio hanno invaso le strade pugliesi e lucane. Non è ancora il grande freddo ma il lancio dei saldi invernali del Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. L'operazione di guerriglia marketing si è svolta a Bari nel cuore delle vie del commercio, via Sparano. Enormi lastre di ghiaccio di varie dimensioni contenevano all'interno buoni shopping pronti per essere scongelati e liberati tra la curiosità dei passanti coinvolti. Si fa aiutare dal cane? Sì, un po' sì. A casa mia ho i polpi, ma li vedo a prendere, li metto qui e faccio i polpi ricci. È un auspicio di prendere il buono, non per la 5 euro, io ho rotto pure l'ombrello. Però è un divertimento. Il claim virale che per giorni ha impazzato sui social è stato pronti a restare di ghiaccio. Come di certo non sono rimasti tanti curiosi che hanno recuperato uno dei 4.000 buoni spesa da utilizzare nel centro commerciale dal 5 gennaio al 14 febbraio. Inoltre nei pressi delle installazioni di ghiaccio sono state distribuite cartoline valide per l'estrazione finale di un buono shopping del valore di 500 euro che avverrà entro il 30 gennaio 2016 nella galleria del Grand Shopping Mongolfetta. Un modo diverso di fare promozione pubblicitaria che coinvolge le persone, sempre nell'ottica per cui fare shopping deve essere prima di tutto un divertimento. Cosa hai riuscito a trovare? Maglie per lui e pantaloni. Gli sconti sono convenienti? Sì, abbastanza. Delle borse, dei vestiti. I prezzi sono convenienti? Sì, sì. Che sconto avete trovato? 50%, 30%. Dove si conosce già, capito? Io vado i negozi che conosco. Sa poca roba però abbiamo fatto qualche acquisto, i prezzi sono convenienti. Pochissimo. Come mai? Ah, non lo so se forse hanno fatto già prima. Quindi evidentemente hanno già acquistato prima dei saldi? Secondo me sì. Le taglie, poi quelle giuste, sono andate già a ruba, quindi restano solo i numeri più difficoltosi. Ho le taglie larghe. Che prezzi si trovano? Dipende dagli articoli, però comunque in genere oggi il 30% di sconto. Io guardo solo quello che va sul 40% e quindi cerco di risparmiare un 40% rispetto al prezzo normale. Beh, ho visto qualcosa al 50% in grandi catene, insomma, più che altro multinazionali. Ha comprato mia madre, quindi non so che dirle. Essendoci di sconti la gente va in giro e magari anche in famiglia. Conviene effettivamente? Eh beh, il 50%, eh, 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 sì che conviene. E voltiamo pagina, passiamo al calcio scommessa. Il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha firmato stamani la grazia per il giocatore Stefano Guberti, attualmente tesserato col Perugia in Serie B e che presto potrà così tornare in campo. L'ex centrocampista di Bari e Sampdoria stava scontando una squalifica di 4 anni e un mese ed era fermo d'agosto del 2012, data della prima condanna nel processo sportivo al calcio scommesse relativo al filone di Bari. Ed era l'ultima notizia, breve spazio pubblicitario, restate con noi. Ben trovati in diretta con il secondo spazio del nostro telegiornale. Iniziano oggi i saldi invernali di fine stagione e secondo il Kodakons quasi una famiglia su due approfitterà degli sconti ma con acquisti mirati. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. 30, 40 e 50% sono iniziati ufficialmente i saldi di fine stagione, occasioni a prezzo ribassato per risparmiare qualcosa sugli acquisti. E se la gente risponde positivamente alla vendita promozionale occorre tenere gli occhi ben aperti. A tal proposito il Kodakons ha diffuso un decalogo di cautele per non pentirsi dell'acquisto. Innanzitutto conservare sempre lo scontrino. Il cambio è consentito entro due mesi se la merce presenta vizi occulti. In tal caso, laddove non sia possibile la sostituzione con un prodotto equipollente, il commerciante ha la facoltà di proporre l'alternativa del buono, stando attenti alla durata e alla validità dello stesso. In caso contrario, il cliente può chiedere la restituzione dei soldi. A spiegarlo è l'avvocato Dario D'Urso del Kodakons. La restituzione dei soldi da parte del venditore non è prevista dalla legge. La restituzione viene chiesta davanti a un giudice. Quindi con tutti i costi e lungaggini accessorie legate alla giustizia. Diverso il caso di merce esente da vizi. In tal caso il commerciante può ben decidere che per la merce in saldo non si accettano cambi. Occhio poi all'entità dello sconto. Un 70% a inizio saldo deve destare qualche sospetto. Si deve trattare di rimanenze di magazzino. La merce in promozione deve essere realmente di fine stagione. Bisogna controllare benissimo il cartellino. Controllare non solo la percentuale di sconto, che potrebbe essere anche fittizia, irreale. Controllare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Infine gli scaffali. Il negoziante ha il dovere di tenere la merce non in saldo ben distinta da quella in promozione. Del resto è la stessa regolamentazione della vendita che oggi fa discutere. E' arrivato il momento per il legislatore di mettere mano alla legge vigente e dire sarebbe il caso di liberalizzare le vendite promozionali tutto l'anno e quindi rendere evidente, rendere legale quello che in realtà già nei fatti succede. Enormi lastre di ghiaccio lanciano i saldi del gran shopping Mongolfiera di Molfetta. Una nuova attività di guerriglia marketing che ha stupito tutti e coinvolto migliaia di passanti. Vediamo. Oltre 50 lastre di ghiaccio hanno invaso le strade pugliesi e lucane. Non è ancora il grande freddo ma il lancio dei saldi invernali del gran shopping Mongolfiera di Molfetta. L'operazione di guerriglia marketing si è svolta a Bari nel cuore delle vie del commercio, via Sparano. Enormi lastre di ghiaccio di varie dimensioni contenevano all'interno buoni shopping pronti per essere scongelati e liberati tra la curiosità dei passanti coinvolti. Si fa aiutare dal cane? Sì, un po' sì. A casa mia ho i polpi, li vedo a prenderli, li metto qui e faccio i polpi ricci. È un ospicio di prendere il buono, non per la 5 euro, io ho rotto pure l'ombrello. Però è un divertimento. Il claim virale che per giorni ha impazzato sui social è stato pronti a restare di ghiaccio. Come di certo non sono rimasti tanti curiosi che hanno recuperato uno dei 4.000 buoni spesa da utilizzare nel centro commerciale dal 5 gennaio al 14 febbraio. Inoltre nei pressi delle installazioni di ghiaccio sono state distribuite cartoline valide per l'estrazione finale di un buono shopping del valore di 500 euro che avverrà entro il 30 gennaio 2016 nella galleria del Gran Shopping Molfetta. Un modo diverso di fare promozione pubblicitaria che coinvolge le persone sempre nell'ottica per cui fare shopping deve essere prima di tutto un divertimento. Cosa hai riuscito a trovare? Maglie per lui e pantaloni. Gli sconti sono convenienti? Sì, abbastanza. Delle borse, dei vestiti. I prezzi sono convenienti? Sì, sì. Che sconto avete trovato? 50%, 30%. Dove si conosce già, capito? Io vado in negozi che conosco. Sa poca roba però abbiamo fatto qualche acquisto, i prezzi sono convenienti. Pochissimo. Come mai? Ah, non lo so se forse hanno fatto già prima. Quindi evidentemente hanno già acquistato prima dei saldi? Secondo me sì. Le taglie, poi quelle giuste, sono andate già a ruba, quindi restano solo i numeri più difficoltosi. Ho le taglie larghe. Che prezzi si trovano? Dipende dagli articoli, però comunque in genere oggi il 30% di sconto. Io guardo solo quello che va sul 40% e quindi cerco di risparmiare un 40% rispetto al prezzo normale. Beh, ho visto qualcosa al 50% in grandi catene, insomma più che altro multinazionali. Ha comprato mia madre quindi non so che dirle. Essendoci di sconti la gente va in giro e magari anche in famiglia. Conviene effettivamente? Eh beh, il 50% eh, 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 sì che conviene. E per agevolare lo shopping festivo domani giorno dell'Epifania, l'AMTAB ha predisposto l'apertura straordinaria dei park and ride per permettere a chi vorrà raggiungere il centro cittadino di evitare code e disagi per il parcheggio. Voltiamo pagina. Sono tante le novità che riguardano la politica dell'abitare. A Bari rientrano tutte nel piano dell'Agenzia della Casa istituita dall'Aggiunta Comunale il 30 dicembre scorso. Questa mattina la conferenza stampa Palazzo di Città per illustrare i dettagli. Sentiamo. Da 652 nel 2007 a 3000 nel 2014 è impressionante il numero degli inquilini debaresi sottoposti a sfratto per morosità incolpevole. Significa che non ce l'hanno fatta a sostenere il costo dell'affitto e sono state costrette a lasciare la propria casa. Per far fronte all'emergenza l'amministrazione comunale ha istituito la prima agenzia per la casa in Puglia nel sud Italia. Più di 650 nuovi alloggi da realizzare nei prossimi 5 anni, un finanziamento di 4 milioni di euro erogato dalla Regione Puglia per il contributo alloggetivo e altri 500 mila euro destinati al fondo per morosità. Questi alcuni dei provvedimenti varati dal Comune di Bari e presentati oggi in una conferenza stampa dal Sindaco di Bari Antonio De Caro e dall'assessore al patrimonio Vincenzo Brandi. Partiamo dal presupposto che all'interno delle graduatorie del Comune ci sono 1.932 aventi diritto, 633 nuclei familiari, però nei prossimi 5 anni vedranno una risposta positiva alla necessità di avere una casa. L'obiettivo, spiega Brandi, è creare un incontro tra domanda e offerta di alloggi a canone concordato. Attualmente sono circa 18 mila le case sfitte soltanto nella città di Bari, situazione causata dall'eccessiva prudenza dei proprietari di casa ad intavolare una trattativa con gli affittuari, l'agenzia metterà a disposizione un fondo di garanzia e tutela del pagamento del canone di locazione ed una polizza assicurativa per il ristoro delle spese legali e dei danni creati all'interno dell'abitazione. Attuiremo dei fondi di garanzia per inquilini ma anche per i proprietari. Sopra il luogo dell'assessore ai lavori pubblici del Comune Giuseppe Galasso sul cantiere del Waterfront di Fesca San Girolamo, da dopodomani saranno effettuati nuovi interventi sul fronte della segnaletica stradale, nel tratto compreso tra via Tomasicchio e via Nino Rota con l'istituzione di nuovi sensi unici di marcia. La nuova disciplina di circolazione influirà anche sul percorso dei mezzi Amtab con alcune variazioni. E passiamo alla cronaca. Pane tossico al carbone vegetale sequestrati in Puglia, panini e focacce impastati con coloranti non a norma. L'operazione è della Guardia Forestale dello Stato. Pane nero al carbone vegetale prodotto utilizzando coloranti proibiti dalla legge. La scoperta è degli uomini della Guardia Forestale che hanno sequestrato un ingente quantitativo di focacce, panini e bruschette in alcuni panifici pugliesi, anche a Bari. 12 panificatori denunciati producevano e vendevano prodotti alimentari al carbone vegetale trattati con un'aggiunta di additivi chimici per variarne la composizione. In pratica alle ricette classiche del pane e della focaccia veniva aggiunto insieme ai normali ingredienti acqua, farina, sale, burro e latte anche il colorante E153 carbone vegetale, una sostanza non autorizzata dalla legge. I prodotti sequestrati, la cui produzione aveva raggiunto il picco per l'epifania, sarebbero finiti sulle tavole dei pugliesi con possibili rischi per la salute. Sono state concluse da poco queste attività di polizia giudiziaria che vanno nella direzione di difendere il consumatore da frodi, perché di frodi stiamo parlando a leggi e normative italiane e comunitarie. Quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute di questo colorante E153? Certo è che è vietata dalla norma e per questo è sufficiente per procedere al sequestro e consentire di indagare 12 persone così come è stato fatto. E sul sequestro di pane nero interviene la Coldiretti Puglia. È necessario fare chiarezza sull'utilizzo diffuso di un colorante in apparente contrasto con la normativa che prevede espressamente che per il pane e i prodotti simili l'uso di coloranti è vietato. Il consiglio della Coldiretti è quello di scegliere fra le centinaia di pani tradizionali naturali di produzione locale. Circa 100.000 decorazioni luminose natalizie non in regola e prive del sigillo europeo sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bari durante controlli in diversi esercizi commerciali. Sequestrate anche 3.000 prodotti tra articoli di cartoleria ed accessori di abbigliamento contraffatti. 5.000 cittadini cinesi denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode. Cambiamo argomento. 100 candeline per nonna Graziella. Oggi i festeggiamenti con parenti e amici a Ceglie del Campo è andata per noi. Isabella Battista Una festa da ricordare per Graziella di Modugno, neocentenaria di Ceglie del Campo. La nonnina vissuta da sempre nella frazione di Bari è nata proprio il 5 gennaio 1916. Tanto l'affetto di amici e parenti che le hanno riservato un applauso speciale per le sue 100 candeline. E stasera è una notte magica, è la notte della Befana. La tradizione vuole che a risveglio i bimbi trovino una calza piena di cioccolate e caramelle. Isabella Battista è andata a curiosare per noi nei negozi di Dolciumi. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a cavalcioni di una scopa, sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle, la Befana passa sopra i tetti e calandosi dai camini riempie le calze lasciate appese dai bambini. L'origine della festa si perde nella notte e nei tempi e nella cultura popolare si fonde con elementi folcloristici cristiani. La Befana infatti porta i doni in ricordo di quegli offerti a Gesù Bambino dai magi. Che cosa ci sarà nella calza della Befana quest'anno? Carbone, cioccolate, caramelle, per grandi e piccini. Tutti gli anni facciamo le calze, se siamo le nonni dobbiamo fare. Un po' di dolci per i bambini, perché quelli non mancheranno, però speriamo che ci sia anche qualche cosa più importante dei dolci nella calza. Qualche pezzettino di carbone? Beh, insomma no, non tanto. Sempre il carbone, perché c'è qualcuno che pensa di stare bene o di essere bravo, però c'è sempre qualcosa che non va. La leggenda vuole che mentre tutti dormono, la Befana lasci i caramelle e doni ai bambini buoni e pezzi di carbone a quelli più dispettosi. Questi da parte loro preparano in un piatto un mandarino, un'arancia e un bicchiere di vino. E il mattino successivo, insieme ai regali, troveranno il pasto consumato e l'impronta della Befana sulla cenere sparsa nel piatto. Abbiamo tutta la roba per bambini buoni, non per quelli cattivi. Che cosa ha richiesto? Di più cioccolate o caramelle? No, no, le caramelle non vanno più di nuovo. Più cioccolate e più un po' di carbone. E domani la Befana arriva anche per i bambini dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Tanti doni una mattinata all'insegna del divertimento con il comico barese Nicola Pignataro. Nell'ambito dell'iniziativa Premio Solidarietà all'evento parteciperà anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Otto Befana e del gruppo speleologico del club alpino italiano si caleranno con funi ed imbracature da un palazzo di via Sparano per atterrare in strada e dare il via ad uno spettacolo di giochi e animazione per bambini. L'appuntamento domani sera alle 19 in piazza San Ferdinando. Ed era l'ultima notizia. Come di consueto vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. A tutti un buon proseguimento di serata. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Ci aspetta un'epifania all'insena del tempo perturbato sull'Europa centro-orientale con precipitazioni sparse e nevose fino a quote molto basse. Continuerà infatti a far molto freddo sul comparto orientale del continente con temperature ancora abbondantemente inferiori agli zero gradi. Andiamo intanto a vedere che tempo ci aspetta sull'Italia con l'instabilità che si concentrerà questa volta soprattutto al centro-sud dove non mancheranno piogge temporali. Il tempo è invece in miglioramento sulle regioni del nord. Per quanto riguarda le temperature minime queste rimarranno stazionarie mentre le massime saranno in lieve rialzo sulle nostre regioni settentronali senza particolari variazioni invece al centro-sud. Ancora maltempo invece al sud con piogge temporali a carattere sparso più frequenti e consistenti soprattutto sul versante tirrenico e l'ovest della Sardegna. I venti saranno forti di maestrale sull'isola, meridionali invece sui settori ionici. Vi aspetto come sempre per aggiornamenti in tempo reale anche scaricando l'applicazione Trebi Meteo su smartphone e tablet. Grazie a tutti.